Allora, buonasera a tutti, abbiamo solo 45 minuti e quindi cercherò di essere davvero concisa un po' nelle informazioni, quindi mi accingo a condividere la presentazione che così dovrebbe andare velocemente. Eccoci qua, sono in condivisione, voglio mettere in presentazione però un attimo. Allora, innanzitutto partiamo dal fatto che il network delle scuole di psicoterapia integrata è un network di otto scuole, quattro a Milano, quattro a Bergamo, che si occupano di psicoterapia, nascono da clinici e hanno alla base la passione per la clinica. Di fatto il modello integrato è un modello, dopo il cognitivo comportamentale, soprattutto all'estero, tra i più utilizzati. In Italia, nell'ultimo decennio, ha visto un incremento, un notevole sviluppo, proprio per le evidenze scientifiche, come avremo modo di dirci, che in qualche modo ha portato. Di fatto, aspettate che non va avanti, eh? Ok. Di fatto però non è un modello nuovo, perché è un modello che fin dall'esito di tutta l'approfondimento preziosissimo delle dinamiche, della terapia, della psicanalisi, delle terapie dinamicamente orientate e negli anni 50, con l'emergente Human Information Processing, che ha portato lo sguardo dell'uomo, ha incominciato a portare lo sguardo dell'uomo in più direzioni. Bene, la psicoterapia integrata ha cominciato a far capolino negli anni 60, dove di fatto si è cominciato, tutti i clinici in qualche modo che lavoravano hanno incominciato a porsi delle domande su il fatto di avere un monopolio teorico, clinico, tecnico, cioè uno, un solo sguardo sull'essere umano, su come si potesse declinare la sua sofferenza, su come si potesse in qualche modo sviluppare l'aiuto all'altro nella sofferenza. Di fatto, si è partiti dalla constatazione che nessuna teoria potesse detenere in qualche modo il monopolio o la verità o l'utilità clinica e che di fatto, rispetto a quella che è la complessità, oggigiorno mi verrebbe da dire ancora di più, nessun approccio ai problemi clinici di fatto può essere esaurito in un solo sguardo, perché tutto quello che è stato prodotto scientificamente ha arricchito quello che noi oggi sappiamo del saper e del saper fare, perché il network delle scuole di psicoterapia integrata è, come dire, sono delle scuole che insegnano a saper essere terapeuti e a saper fare i terapeuti. Come spero di aver tempo di illustrarvi dopo, sono due concetti fondamentali. Di fatto, quindi, l'approccio ai problemi clinici richiede quello che è una prospettiva pluralista e soprattutto integrata. Questo ha maggior ragione partendo dal presupposto che nessuna terapia, in qualche modo, può dirsi esente da fallibilità, perché nessun approccio terapeutico è infallibile e di fatto l'integrazione non mira a superare ogni specifico trattamento. Come vedremo bene, che è stata una delle critiche fatte nel passato, ma anzi, l'obiettivo della psicoterapia integrata e nel suo sviluppo è stato quello di incrementare l'efficacia dei trattamenti attraverso quelli che oggi chiameremo i tailored interventions, che sono così in linea in un'ottica che ci diremo di evidenza scientifica, cioè evidence-based practice. Quindi, di fatto, l'esigenza era quello di personalizzare la pratica tecnica in accordo alle caratteristiche, ma non solo quelle dei pazienti, anche quelle dei terapeuti, perché non esiste una terapia che non preveda relazione, non preveda quindi non solo il paziente, ma la diade, paziente-terapeuta. Di fatto, Gordon Pollan, ancora negli anni sessanta, si chiedeva quale trattamento fatto da chi è più efficace per questo individuo o con quello specifico problema e soprattutto in quali circostanze. Se ci pensiamo, quindi, questo è quello che noi intendiamo quando parliamo di personalizzazione. Di fatto, quindi, il movimento psicoterapico integratico non ha mirato e non mira a combinare tutti i modelli in uno, come un tempo, ma parliamo veramente ormai di tantissimi anni fa, erano le critiche mosse alla psicoterapia integrata, ma a quello di sviluppare un framework, cioè una cornice di dialogo tra i diversi approcci. Quindi non si cerca il vincitore in maniera agonistica tra un approccio e l'altro, perché sono tutti validi. In base al tipo di problema, aggiungerei personalmente al tipo di gravità, al tipo di momento in terapia, come la letteratura ci dimostra, e rispetto a specifiche problematicità e specifici quadri psicopatologici. Di fatto, quindi, se ci pensiamo, è avere diverse priorità terapeutiche in base alla complessità dei problemi, pensate solo a situazioni di comorbidità polisintomatica, come dire, descrivere, declinare, sapere essere, sapere fare i terapeuti rispetto a chi abbiamo davanti, non ignorando, mai ignorando le situazioni contestuali in cui una persona è inserita, che sono fondamentali. Di fatto, brevemente, senza dilungarmi e farvi quello che verrebbe da dire un pippone sugli approcci teorici, però l'evoluzione, così come in altre discipline, dalla CBT all'orientamento dinamico, all'orientamento sistemico, si sono declinati dei singoli approcci. Bene, la psicoterapia integrata ha visto, come dire, nel nascere un approccio che è quello che, tra l'altro, si è tirato dietro quelle famose critiche un po' dell'essere l'arlecchino, che era l'integrazione teorica come approccio integrato, cioè era l'unione di più approcci teorici e non interventistici. Se capite bene, lo sguardo epidemiologico sull'uomo, a volte legato alla mera soggettività o a, se misuriamo solo quello che si vede, potete immaginare quanto stessero in scarsa sintonia, perché era proprio l'epistemologia che, come dire, descriveva in maniera diversa. Ed è stato, per quanto abbia fatto danni in termini di fama al metodo integrato, poi superate dalle evidenze fortunatamente, di fatto è subentrata una fase definita dell'ecletismo tecnico, che però è totalmente non in linea con il metodo delle evidenze scientifiche, che è basato su rigorose protocolli, RCT, studi randomizzati, controllati, trial, e di fatto lasciava all'esperienza del clinico e del terapeuta lo scegliere quale tecnica, quale strumento in quel momento potesse essere in qualche modo più adatta per quel tipo di paziente. Questo negli anni 70, capite bene che è stata poi abbandonata, proprio perché lentamente, gradualmente, a partire dagli anni 80, la logica dell'evidenza scientifica che ha caratterizzato prima i modelli scientifici, soprattutto in medicina, e che a seguire ha caratterizzato anche i modelli psicologici e di psicoterapia, ha poi negli anni ho tanto prodotto quasi contemporaneamente due approcci, che sono l'approccio basato sui fattori comune, e vi spoilerò, che è quello che caratterizza il network delle scuole di psicoterapia integrata, che è l'approccio internazionalmente più frequente e usato, e quello che in Italia noi rappresentiamo pienamente. Parallelamente sono nate una serie di scuole e di approcci invece definiti di integrazione assimilativa, dove, vi descrivo prima questo, dove si manteneva uno sguardo dal punto di vista epistemologico uno solo, ma si usavano le tecniche di diversi approcci. Questo però non è quello che poi le evidenze scientifiche hanno messo in evidenza, perché cosa mettono in evidenza la letteratura scientifica sulla psicoterapia e modelli di esito e di processo in psicoterapia, che di fatto ci sono dei fattori comuni, quelli che chiamano i common factors in psicoterapia, che sono trasversali ad ogni modello di terapia e, per inciso, sono, e anche qui spoilerò, attaccamento e relazione terapeutica o alleanza terapeutica. Bene, li ritroviamo in tutti gli approcci e sono trasversali ad ogni modello di psicoterapia. Bene, in particolare la relazione terapeutica e l'alleanza terapeutica sembra essere il maggior descrittore di cambiamento in psicoterapia, cioè quello che produce maggior cambiamento nei pazienti, paradossalmente. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la relazione terapeutica è imparare a costruire, mantenere nel tempo, evitare le rotture e qualora queste accadessero, ripararle, diventa un obiettivo fondamentale del saper fare, del saper essere terapeuta e fa parte ovviamente di uno dei due fattori comuni che caratterizza anche l'approccio del network scuola di psicoterapia integrata, appunto relazione terapeutica e attaccamento, sviscerato in tutte le salse possibili ovviamente. Quindi il modello che caratterizza scuola è proprio quello di un approccio relazionale basato sul modello attaccamento all'interno della cornice delle evidence-based practice e quindi delle linee guida che la letteratura scientifica ci dà, perché ci sono linee guida specifiche che ci dicono cosa è più utile, cosa non è più utile per trattare un episodio depressivo maggiore o una distimia, di che grado, un disturbo d'ansia generalizzato o altre, una fobia specifica. Quindi le evidenze sono proprio le linee guida che noi utilizziamo in maniera costante ma contemporaneamente l'approccio relazionale. È approccio relazionale perché viene insegnato agli studenti a costruire, mantenere, evitare le rotture della relazione e ripararle perché nessuna relazione è immune. Guardate, né quelle d'amore né quelle di amicizia, tutti i legami sono a rischio rottura e imparare a prevenire le rotture e in qualche modo ripararle è fondamentale. In più la scuola vi prepara a lavorare per diversi setting clinici ovvero terapia individuale di coppia, la terapia individuale tutti e quattro gli anni. Terapia di coppia si fa secondo, si fa scusatemi terzo e quarto anno, terapia familiare si fa secondo e terzo anno, terapia di gruppo si fa al quarto anno. In più per le diverse fasi di età perché a scuola si lavora con l'adulto sempre, secondo e terzo anno con l'adolescente di cui vedremo anche c'è una certificazione specifica che noi rilasciamo comprensiva nella retta che adesso poi vi illustrerò, spero di avere il tempo e scusatemi se corro ma abbiamo solo 45 minuti. Quindi l'adolescente, ovviamente l'adulto tutto il percorso di vita e l'anziano al quarto anno. In più la scuola vi prepara a lavorare con i pazienti se dovessimo usare una vecchia dicitura di aria nevrotica e disturbi di personalità ma anche quelli che Liotti chiamava i pazienti difficili. Di fatto vengono insegnate tecniche oltre ovviamente a lavorare tantissimo sulla relazione perché pensate che ci sono 64 ore di formazione personale all'interno della scuola tutti gli anni in cui c'è anche un lavoro fatto col corpo perché ormai la letteratura scientifica ci dice e questo è tutto appannaggio della terza onda cognitiva. Sappiamo di quanto, nonché dei modelli bioenergetici, di quanto il corpo, i processi bottom up siano altrettanto importanti dei processi top down e quindi fondamentale avere e conoscere la sensory motor, la mindfulness che vengono fatte rispettivamente terzo e quarto anno la mindfulness e terzo anno invece la sensory. Sono percorsi molto lunghi, di questi non c'è certificazione ma vengono fatte. In più si lavora proprio col gruppo in termini relazionali perché il gruppo è un grande specchio dei nostri schemi di funzionamento perché la consapevolezza, acquisire consapevolezza di come voi funzionate con l'altro è il prerequisito fondamentale della relazione e del saper stare e costruire relazione. Per dirvi una, io e Luca siamo compagni di specialità perché la relazione è importante nel tempo e va curata e salvaguardata nel tempo. Di fatto quindi, se ci pensate, quello che viene proposto a scuola è proprio il lavoro in gruppo. Ovviamente la scuola si lavora, come adesso vi farò vedere in un breve video, anche con specchio unidirezionale proprio perché è una scuola integrata. Specchio unidirezionale, doppia telecamera, vedrete, dove simultaneamente noi facciamo anche il video feedback, altra letteratura sulla psicoterapia, sugli studi di esito e processo in psicoterapia, cioè su che cosa è utile nel vedere simultaneamente in video paziente e terapeuta e diamo il video feedback e diamo anche la registrazione agli allievi posto, fatte tutte le formalità del caso sui consensi informati, per potersi rivedere e poter apprendere ed essere supervisionati sulle fatiche, sugli errori che inevitabilmente all'inizio della professione e nella formazione facciamo. Di fatto quindi, da ampio spazio, con anche proprio approcci specifici come quello di Catherine Eubanks sul metodo delle 3R della relazione, interessantissimo, proprio nell'imparare a costruirla, mantenerla, ripararla nel tempo, proprio perché produce addirittura in alcuni studi fino al 60% del cambiamento, nonché tenere in considerazione quella parte di personalizzazione dell'approccio che inevitabilmente persone diverse, problemi diversi richiedono, perché è impossibile pensare e questa bellissima meta-analisi ci dice di fatto che pazienti più internalizzanti, per esempio, hanno bisogno di terapie maggiormente, tra virgolette, basate sulla relazione e più sull'intuizione, mentre invece pazienti esternalizzanti beneficiano maggiormente di terapie, come dire, legate a cognitivo-comportamentali o legate, per esempio, a sintomi. E perché questo è importante? Perché ricordatevi che prevenire i drop-out è una roba importantissima, fondamentale, perché non solo perché avrete un paziente in meno, e capisco che vi preoccupi, ma perché prevenire i drop-out vuol dire dare una persona, spesso i pazienti quando arrivano da noi, arrivano da noi e quello è un punto di arrivo, è vero che è anche un punto di partenza, ma è un punto di arrivo, spesso dopo anni di sofferenze, non condivise, e mantenere agganciato un paziente vuol dire mantenerlo nella possibilità di poter cambiare, di adottare schemi più funzionali, di avere un benessere aggiuntivo, di vivere una vita più serena, avere schemi di funzionamento di sé con l'altro, di sé nel mondo, sicuramente più adattivi. Questa è una ricerca, velocemente ve la illustro, che ci dice che dopo dieci anni da una scuola di specialità nessuno di noi è più fedele al modello con cui si è formato, anche i più ferventi. Questo perché? Perché dopo con l'esperienza clinica, dalla nostra porta entra la qualunque e essere preparati a gestire la complessità della clinica è quello che poi nel tempo inevitabilmente un clinico esperto che fa tanta clinica cercherà e quindi di fatto cercherà soprattutto che cosa, come dimostra questa ricerca, gli aspetti relazionali, quelli più intuitivi, quelli legati alla focalizzazione emotiva, tecniche e strumenti che gli aiutino a gestire emozione e relazione. Di fatto quindi nell'approccio integrato che si vive, viene da dire si vive e si fornisce a scuola, formiamo terapeuti ad essere a utilizzare tutte le tecniche con dimostrata efficacia di diversi modelli teorici, sistemico, cognitivo, psicodinamico, psicocorporeo, per i diversi setting clinici come vi dicevo. Formiamo i terapeuti nel imparare a formulare le diverse tecniche, eroghiamo oltre al titolo e al diploma, al titolo di psicoterapeuta, si acquisiscono anche certificazioni che adesso vi illustro e ovviamente dedichiamo ampio spazio alla formazione relazionale, sempre in un'ottica evidence base. È una scuola con connessioni internazionali, professor Tasca è dell'Università di Ottawa, anche se il nome sembra italiano, è canadese, Norcross che è uno dei padri fondatori della psicoterapia integrata ed è uno nel comitato scientifico, in più il modello di scuola ha ricevuto anche il consenso da parte del MUR per essere perfettamente in linea con la professione sanitaria dello psicologo che ormai da qualche anno ci è richiesto e è perfettamente in linea con quello che speriamo tutti, visto la recente approvazione, addivenga che è la figura dello psicologo nelle cure primarie. Detto da me che ovviamente sono un'ospedaliera universitaria e ospedaliera è un grande risultato e dove ovviamente si insegna non solo bene l'inquadramento diagnostico, l'utilizzo sul territorio, lo spendere sul territorio ma anche tutti gli strumenti che noi possiamo utilizzare sia di screening, sia di psicodiagnosi ma anche poi di trattamento per questi pazienti. Siamo sempre internazionali perché siamo affiliati SEPI e siamo tra i fondatori della SEPI Italia che è la Society for the Exploration of Psychotherapy Integration e che ha una rivista specifica che è riconosciuta dall'American Psychiatric Association, quella del DSM per intenderci, di cui uno dei nostri docenti è Giancarlo Di Maggio, ovviamente è nel board editoriale. Facciamo ricerca e facciamo ricerca anche sulla formazione che diamo. Questi siamo noi, ovviamente qui ero venuta un po' meglio, oggi non truccata, non benissimo, però questi sono i nostri centi clinici. Scuola. Scuola dà tantissime supervisioni che sono già nel programma orario. Voi come sapete ogni scuola deve fare, abbiamo un monte ore di 500 ore di cui 350 sono di didattica che sono già comprensive di tutta la parte esperienziale, formativa, personale e 150 ore di tirocinio. All'interno delle 350 ore avete cadenzate e strutturate ogni anno plurime supervisioni con il co-trainer per aiutarvi con i primi pazienti e per monitorarvi nell'acquisizione delle competenze da terapeuti. In più la scuola offre calendarizzate 20 ore l'anno di intervisione gratuita che è coordinata, queste aggiuntive, da un'equip di psicoterapeuti esperti a cui potete partecipare e portare anche i vostri casi oppure seguire i loro. Noi chiediamo la psicoterapia obbligatoria, la terapia personale obbligatoria che va fatta entro il quarto anno. Il costo ovviamente della terapia varia da terapeuta a terapeuta ed è all'interno di una lista di terapeuti fornita dalla scuola e si può iniziare dal primo anno quando è la necessità della terapia. Uno inizia quando ne sente la necessità. L'importante è aver effettuate le 30 ore prima del quarto anno. Il colloquio di ammissione è gratuito ed è continuo durante tutto l'anno perché c'è proprio una finestra sul nostro sito che si chiama coscritto iscrizione, potete chiamare e sentire la segreteria e in qualunque momento dell'anno potete iscrivervi. Noi abbiamo una peculiarità. All'inizio del primo anno ci troviamo per quattro giorni dove condividiamo momenti extra formativi a quelli strettamente formativi, cioè si mangia e si dorme assieme, sempre ovviamente senza, come dire, per la serietà del luogo ovviamente non mi consente di fare battute, però si condividono i momenti extra formativi. Di fatto ovviamente questo è a costi estremamente agevolati perché si impara a conoscere il gruppo, perché il gruppo è un importante specchio di come funzioniamo e lo useremo fino al quarto anno. Poi una volta alla fine di ogni anno, fine del primo, fine del secondo, fine del terzo e amatissimo dei nostri ragazzi, alla fine del quarto anno condividiamo tre giorni sempre con questo spirito dove ovviamente si svolge l'esame di fine anno che serve per passare al soggettivo, al successivo. Bisogna frequentare l'ottanta per cento delle lezioni che sono all'incirca quaranta, quaranta lezioni l'anno. Noi abbiamo otto corsi, di questi quattro sono a Milano, quattro sono a Bergamo, di cui due a Milano e due a Bergamo sono nel weekend. Due a Milano e gli altri due a Bergamo sono invece il giovedì infrasettimanale con abbinati circa un quattro weekend, ok? Per completare le ore formative. Quindi uno è tutti i giovedì con quattro weekend, l'altro è invece nel weekend. Il weekend però è inteso con una formula un po' tamburo. Ogni quindici giorni c'è calendario, c'è scuola di cui venerdì sabato, poi si salta lezione quindici giorni, si fa sabato domenica, poi si salta quindici giorni ancora venerdì e sabato. Questo perché? Perché indicativamente se facessimo un mese di quattro settimane noi avremmo due sabati, una domenica e un venerdì complessivamente di lezioni. Non c'è mai lezione a luglio ed agosto e mai durante le vacanze che sono sacre per tutti. Quindi mai a Natale, mai a Pasqua per intenderci. Abbiamo delle sedi cliniche che sono a Milano, Bergamo e Alzano Lombardo. Magari molti di voi ci hanno scelto anche come sede del tirocinio abilitante per l'università e quindi ci conoscono e sanno che si può vedere dallo specchio e con la tecnologia che adesso vi illustro anche tutti i colloqui di tutti i clinici. Come vi dicevo c'è un esame di fine anno ed è ovviamente obbligatoria la presenza dell'ottanta per cento. Noi facciamo recuperare delle lezioni quando ci sono per esempio degli eventi che riteniamo particolarmente efficaci a cui facciamo partecipare gratuitamente per fare un po' una banca ora anche di recupero per chi a volte è in sovrannumero, in sottonumero perdonatemi con le presenze. Vedete Isabel Fernandez, poi Luit e Cesare Maffei per inciso sono tutti docenti della nostra scuola come avrete potuto vedere sul sito. Queste sono immagini di scuola e queste sono le immagini delle sedi milanesi perché siamo in più sedi. La sede principale, la nostra proprio è via Fatebene Fratelli 15, metropolitana Turati, siamo di fianco all'Armani Caffè e quindi è comodissima e raggiungibilissima ma tutte le altre sedi che sono in zona conciliazione o siamo a Romolo sono attaccate alla metropolitana sempre. Abbiamo convenzionate più di centocinquanta strutture ad oggi su tutto il territorio lombardi e avendo molti studenti fuori sede, noi abbiamo studenti dal Veneto, dall'Emilia, dal Piemonte, addirittura dalla Puglia e dalla Calabria ve lo dico e quindi sappiate che c'è moltissime convenzioni anche in altre regioni. Sono stanziati ogni anno e anche per quest'anno sono stanziati dieci contributi economici del valore di 500 euro ciascuno. Vi scrivete quando ci si iscrive a scuola si chiede di partecipare anche all'erogazione di questo contributo economico, bisogna presentare il curriculum e l'ISE, il modello ISE e poi a fine ottobre, inizio novembre viene mandata a tutti quelli che hanno fatto richiesta la, come dire, tutta la graduatoria di chi ha vinto. La biblioteca, noi abbiamo sia a Bergamo che a Milano due biblioteche fornitissima, abbiamo più di 140 testi che è molto interessante perché i testi sono una grande voce di spesa e abbiamo convenzioni per i pagamenti con i giovani psicologi della Lombardia e i neopsi, referenti ad oggi, a tutt'oggi, referenti territoriali per OPL e siamo molto orgogliosi dei nostri ragazzi perché anni fa hanno messo in piedi ovviamente questa parte territoriale. Da scuola si esce col titolo di psicoterapeuta e incluso nel costo della retta il primo certificato, il primo livello MDR, il livello BASIC, la prima certificazione della terapia metacognitiva interpersonale tipo cognitivo, il Primary Certificate in Cognitive Behavioral Therapy della CBT e NANS, il disturbo del comportamento alimentare, il certificato del workshop introduttivo tenuto dal professor Maffei della DBT, l'attachment base Family Therapy, il primo livello che è tecnica riconosciuta per, di cui abbiamo appena scritto anche a cura nostra insieme a Guy Diamond e gli altri autori, Susanne Levy, hanno appena pubblicato in Italia il libro per, ed è tecnica riconosciuta APA per il trattamento della depressione e la prevenzione del suicidio in adolescenza, la certificazione per il neurofeedback rispetto all'utilizzo del feedback e della neuromotulazione e del neurofeedback nella pratica clinica e l'attestato del workshop introduttivo, oltre che scontistiche particolari per molte di queste, per fare i secondi livelli che noi abbiamo con MDR, con la schema therapy, per fare per esempio i livelli completi e l'attestato appunto della schema therapy come workshop introduttivo. Di fatto non vi faccio vedere il video della BFT perché secondo me non ne abbiamo il tempo, però vi ricordo che è una terapia sistemica, di origine sistemica e sull'emotion focused, quindi basata sull'attaccamento per adolescenti affetti da depressione. Se abbiamo fatto recentemente la presentazione del libro proprio il 24 maggio scorso con Luca, anche con la dirigenza di ATS di Bergamo per esempio, probabilmente la riferemo anche a Milano, magari a settembre, proprio per illustrare il libro con gli autori e abbiamo, e se volete anche farvi un'idea del modello integrato, trovate questo libro edito Franco Angeli, ormai edito da un paio d'anni, 23 pensavo di più, che è appunto la psicoterapia integrata basata appunto sul modello delle evidence based practice, dove tra l'altro ci sono anche autori veramente di rilievo, anche internazionali e ve lo consiglio comunque perché è veramente molto interessante e di fatto come tecniche noi oltre a quelle certificate, noi come vi dicevo facciamo anche la mindfulness e la sensory motor che però richiedono dei percorsi lunghissimi e specifici, a volte di anni perché anche biennali, e l'ACT che invece lo sapete non prevede certificazione. Abbiamo, come lo chiamo io, il bollino cichita che detta così è bruttissima, perdonatemi ragazzi, ma è invece una cosa importantissima a cui abbiamo lavorato molto, che è abbiamo ricevuto l'accreditamento della European Association for Integrative Psychotherapy, che cosa vuol dire? Vuol dire che chi si specializzerà con noi riceverà anche il certificato europeo di psicoterapia integrativa e quindi potrà più facilmente lavorare, ve l'è riconosciuto il titolo, quando va, se per caso si dovesse trasferire all'estero, ovviamente nei paesi aderenti all'AIP. Costi scuola. Milano, costo scuola è sempre 6.000, 6.000 euro. Se ci si iscrive appunto entro, di solito novembre perché c'è anche un corso propedeutico adesso vi dico, di solito o comunque si paga con pagamento, con rata con pagamento anticipato, la retta della scuola che per tutti gli anni sarebbe 6.000, diventa 5.000 per il primo e secondo anno e diventa 5.500 per il terzo e il quarto anno, anziché 6.000, ok? Come si fa a iscriversi? Ci si candida per il colloquio, se il colloquio ha esito positivo verrà mandata una lettera e bisogna controfirmarla e dire, mandare un acconto di 1.300 euro e poi si pagherà in base a come uno sceglie di pagare. Se uno vuole delle rate più lunghe pagherà la quota intera che è 6.000, se invece uno paga entro il dicembre, quindi dell'anno che dovrà iniziare, quindi assolutamente rateizzato se è affiliato a Neopsio o GPL, oppure se lo paga entro di solito fine giugno. Quindi, ricapitolando, costo scuola 6.000 per Milano, 5.000 prima e secondo anno, 5.500 terzo e quarto. Se si è iscritti a Neopsio o GPL si può pagare la quota anticipata ma anche rateizzarli, ok? Entro dicembre. Quindi noi stiamo scrivendo perché abbiamo esaurito i posti per il 24-25, abbiamo però una lista d'attesa perché per esperienza una decina di persone prima dell'inizio della scuola si ritirano, cambiano idea, hanno dei problemi e si iscrivono magari l'anno dopo. Quindi potete mettervi in lista per iniziare quest'anno 2024-2025. Le scuole di Bergamo iniziano sempre a novembre, le quattro scuole. Invece le scuole milanesi iniziano tra dicembre e fine gennaio. Quindi dicembre 2024 per quest'anno e gennaio 2025 per l'anno accademico 2024-2025. Però bisogna mettersi in posto in lista d'attesa e bisogna vedere adesso in questi mesi se qualcuno si ritira. Dopodiché invece noi stiamo già prescrivendo per l'anno 2025-2026. Quindi partenza novembre 2025 per Bergamo e dicembre-gennaio per quelle di Milano. Cioè dicembre 2025-gennaio 2026 per quelle di Milano. Perché abbiamo ahimè terminato i posti molto presto quest'anno. Quindi consiglio a chi fosse interessato di prendersi veramente per tempo. Scuole giovedì eccetera. Le orari sono sempre dalle nove alle diciotto e come vi dicevo ci sono le formule del weekend, le formule e la formula infrasettimanale. Abbiamo tanti enti convenzionati per il tirocinio. costi Bergamo. Il costo della scuola totale è 5.500 se uno vuole rateizzare in maniera più ampia il costo pieno della scuola. Se si è iscritti all'Upsio GPL o si vuole pagare la retta in maniera anticipata il costo diventa 4.500 per il primo e il secondo anno e diventa 5.000 per il terzo e il quarto anno. Quindi ribadisco 5.500 sempre diventa 4.500 primo e secondo anno, terzo e quarto anno diventa 5.000. Ovviamente il pagamento della quota anticipata o l'iscrizione all'Upsio GPL addirittura permette la rateizzazione. Noi, proprio perché ci è sempre dispiaciuto lasciare fuori i ragazzi, però vogliamo far vivere l'emozione di scuola, l'atmosfera che si respira a scuola, che è veramente un luogo dove si vivono emozioni, non solo quelle dei pazienti che vengono nei centri clinici e che gli studenti hanno la possibilità di vedere, ma si vivono emozioni nel gruppo, nella crescita, nella formazione e nelle fatiche anche dei 4 anni. E ovviamente per l'anno prossimo, 2025-26, a novembre partirà, a novembre del 2024, partirà, quindi a novembre di quest'anno, partirà il corso propedeutico. C'è un corso che vi prepara, vi permette un minimo già di avere delle informazioni di base con cui poter lavorare, che è totalmente gratuito, a tutti i preiscritti possono accedere, che partirà a novembre e prevederà una lezione al mese, tranne il mese di dicembre ed aprile, ed è totalmente gratuito e finirà poi a giugno del 2025, e dove potrete vedere già metodologia dell'integrazione, primo colloquio, cioè si lavorerà già attivamente su tutta una serie di tematiche utilissime. Per iscriversi potete sempre farlo chiamando la segreteria, mandando una mail in segreteria, ma c'è proprio una sezione dedicata sul nostro sito che è www.psicoterapiaintegrata.it e potete sempre scrivere e potete chiamare anche scuola e scrivervi, la mail è appunto psicoterapiaintegratachiocciola.it, ho detto bene la mail Luca, non me lo ricordo, non so se l'ho detta bene, segreteria, scusatemi, segreteria, chiocciola, segreteria, chiocciola, psicoterapiaintegrata.it e prima di farvi vedere un video, se abbiamo ancora il tempo, vi lascio i nostri ragazzi, non abbiamo mai smesso di la formazione. Abbiamo ancora dieci minuti, quindi sì. Ah ce la faccio, che mi ho corso come una matta, penseranno che mi sono presa giù qualcosa, meno mai no perché non vedendo bene l'orario e non vedendovi neanche faccia in me. Comunque, questi sono i nostri ragazzi e come vedete questa è l'atmosfera di scuola, eravamo un po' più mestri durante il covid ma non abbiamo mai smesso di lavorare. Questi sono i nostri ragazzi alle full e ovviamente è proprio una bella esperienza quella che si fa a scuola. Per lasciare poi magari qualche, non so se è possibile tramite la chat, io vi faccio vedere intanto un video che è, vi faccio vedere in questo momento la stede di Bergamo, così potete vedere anche dove si svolge la vita a scuola, insomma. Grazie. 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 Eccoci qua. Eccoci qua. Ci sono, siamo tornati. Quindi in qualche modo davvero adesso se c'è un attimo di tempo non so se noi possiamo fare come dire. Sto rispondendo. Sto rispondendo un po' alle domande. Ne sono arrivate una cosa Barbara, visto che c'è ancora tempo magari di rispiegare perché viene chiesto il tema dei corsi del weekend e del giovedì. Ok, lo rispiego assolutamente. Allora tutti i corsi, tutti i corsi sia del giovedì che del weekend iniziano alle 9 di mattina e fanno alle 18. Sono tutti i corsi, devono fare 500 ore l'anno, 350 di teoria che si fanno a scuola, che comprende queste 350 ore anche la formazione personale, il lavoro sul corpo, e 150 di tirocinio fatte con gli enti convenzionati esterni, il tirocinio. I nostri corsi sono 4 sono nel weekend e 4 sono il giovedì. Quelli del giovedì sono tutti i giovedì, dalle 9 alle 18, in più all'anno ci sono 4 weekend. Ok? 4-5 weekend. Perché a volte per prendere le certificazioni ci sono dei seminari e quindi sono nel weekend. Ok? Questi sono quelli del giovedì. Quelli del weekend invece, sia quelli di Bergamo che quelli di Milano, vale la stessa cosa per quelli del giovedì, vale sempre sia per Bergamo che per Milano. Cosa succede nel weekend? Che è un calendario dove non è sempre sabato e domenica, sabato e domenica, ma è venerdì e sabato. Poi si saltano 15 giorni, poi si fa lezione sabato e domenica, poi si saltano 15 giorni, poi di nuovo venerdì e sabato, in modo da avere indicativamente, ovviamente salvo imprevisti, salvo eccezionalità di calendario, perché a volte Pasqua è attaccata al ponte, ma indicativamente sempre un po' 15 giorni a tamburo in modo da avere due sabati al mese, chi fa il weekend, due sabati al mese, una domenica e un venerdì. Questo l'abbiamo fatto e scelto per non appesantire troppo quelli che lavorano, ma anche non appesantire troppo la vita familiare, perché poi quattro anni sono lunghi ragazzi e quindi bisogna, come dire, poi tirare anche il fiato, ecco questo è un po' il motivo. Non so se sono stata chiara Luca? Sono stata chiara? È chiarissima. Ok. Ci sono ancora domande, no? C'era qualcosa sui costi, ma ho risposto io. Magari una parola, non so se l'hai detta sui tirocini, forse hai detto. Ecco, di tu dei tirocini. Beh, dei tirocini, allora noi abbiamo per ogni scuola delle sedi convenzionate, sia pubbliche che private, ma ciò non toglie che ognuno di voi, sulla base delle vostre preferenze, anche delle vostre conoscenze di tutor o strutture che sono vicino al luogo vostro di residenza, per cui nulla vieta di convenzionare ulteriormente nuove strutture. E questa è una procedura che ha bisogno di tempi, ma anche abbastanza rapidi, tra l'amministrazione dell'ente e la nostra segreteria. Ok? Per cui noi abbiamo centinaia di strutture convenzionate, ma se ne possono convenzionare altre che fanno capo ai vostri interessi o alle vostre sedi di residenza. E quindi quello che vogliamo dirvi è importante che dedichiate, ecco, qualunque sia il vostro percorso, posto che facciamo veramente una professione bellissima e siamo fortunati, perché è davvero una professione appassionante e, ecco, indipendentemente che poi scegliate di fare scuola di psicoterapia con noi, la professione e la scuola di specialità è davvero un'avventura unica. Io e Luca siamo amici ancora dopo vent'anni e la vita comunque ci pone delle fatiche davanti, quindi vuol dire che il percorso che è stato fatto insieme vuol dire che è stato proprio significativo. Quindi qualunque cosa scegliete, scegliete comunque un approccio che contempli formare voi, perché voi siete strumento in terapia e quindi poi le tecniche, noi assolutamente, figuratevi, eroghiamo sette certificazioni nel corso scuola e sono importanti, è importante seguire le evidenze ma mai dimenticarvi di calibrare l'intervento su chi avete davanti, perché alternativamente facciamo le cose con lo stampino e non ha senso, quello non è evidenza. Seguire le linee guida vuol dire sì, avere in mente simultaneamente, come dire, l'evidence base, le linee guida, ma anche la persona specifica che abbiamo davanti. E quindi in bocca al lupo per la vostra professione, qualunque sia la vostra scelta e la vostra strada. Grazie mille, grazie dottoressa Poletti e dottor Pievani. Grazie. La presentazione è molto interessante, ho visto anche molto partecipata. Grazie. Resta ancora per essere stati con noi. Ecco, scusa, l'ultima cosa, hai dato la data dell'Open Day. Ah, giusto, non l'ho data. Se qualcuno vuole approfondire, fare domande, eccetera, il 17 luglio alle ore 19, poi lo pubblicizzeremo comunque sul sito della scuola, 17 luglio ore 19 prossimo siamo online a fare l'Open Day per la scuola e quindi ne daremo comunicazione sul nostro sito. Grazie. Perfetto, grazie. Vedete un po', marketing andiamo benissimo noi. Grazie. Grazie ancora a voi. Grazie, buona serata a tutti, buona domenica. Buona domenica. Ciao. Grazie. 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 Grazie.